benvenuti al meteo di tele nuova queste le previsioni del tempo per domani mercoledì 7 gennaio arrivano correnti umide meridionali con nubi e locali piogge tra liguria e toscana sporadiche tra le miglia e le pianure del nord possibili fiocchi di neve sull'appennino bel tempo altrove in serata intensificazione della nuvolosità su tutte le aree tirreniche in campania l'anticiclone delle azzorre garantirà condizioni di bel tempo temperatura ancora in aumento il cielo sarà sereno salvo locali nubi in serata peggioramenti temperatura in aumento nei valori pomeridiani venti deboli direzione variabile mare poco mosso